Tornano a farsi cupe le nuvole sullo stabilimento empedoclino dell'Italcementi dopo la conferma all'Ars della crisi aziendale che potrebbe portare al licenziamento anche degli operai di Isola delle Femmine nel Palermitano. Ripiombano così nella preoccupazione i lavoratori che da sabato scorso erano tornati al lavoro. Parallelamente si mobilitano anche i sindacati e la politica. Per Nino Bosco, componente della Commissione parlamentare per le attività produttive all'Ars, la tensione è massima ed è rivolta al futuro delle famiglie e dei lavoratori dell'Italcementi empedoclina. Sono molteplici le cause della crisi, soprattutto collegate alla grave congiuntura economica che stiamo attraversando e Italcementi non ha fatto mistero delle difficoltà chiedendo un aiuto alla Regione per agevolare la ripresa produttiva. Rivela il parlamentare del PDL che in sede di dibattito istituzionale ribadirà la necessità di salvaguardare i posti di lavoro e di scongiurare la chiusura del cementificio empedoclino. In una battaglia trasversale, come afferma il deputato regionale del PD, Giacomo Di Benedetto, secondo cui la deputazione grigiantina è compatta, pronta alla battaglia per dare risposte positive all'avvertenza di Porto Empedocle. Certo, ad oggi non abbiamo visto un grande fermento da parte della giunta regionale, detto Di Benedetto. Non si è distinta per aver assunto una posizione netta, chiara e puntuale, però la presenza all'audizione all'Ars dell'assessore regionale Marco Venturi e il suo annunciato impegno a nome del governo rappresentano ovviamente un primo passo in avanti, fermo restando che la strada resta in salita. I sindacati Filcams, Filea e Fly hanno rappresentato la necessità che si mettano in atto tutte le misure necessarie al fine di scongiurare la chiusura, mentre il sindaco di Porto Empedocle, Lillo Firetto, ha ripetuto che qualora l'italciamenti dovesse scegliere di abbandonare la città, dovrà farsi carico della bonifica totale dell'area. Salvo Ferlito, presidente regionale di Ance Sicilia, lancia invece un altro allarme. La conferma della chiusura dello stabilimento di talciamenti di Porto Empedocle e la paventata cessazione anche delle cementerie di Isola delle Femmine aprirebbero un'ulteriore pagina buia nella storia del settore delle costruzioni in Sicilia. Il venir meno di due fabbriche strategiche nel campo delle forniture in edilizia, dice, non avrebbe solo un effetto negativo sull'occupazione, ma determinerebbe anche l'aumento del prezzo del cemento. Infatti si creerebbe una situazione di monopolio di mercato e si registrerebbe...